Comunale a Benevento. Mentre la politica si incontra e si scontra, c'è chi fuori dai simboli di partito annuncia in esclusiva a Canale 58 la sua candidatura a sindaco di Benevento. Lui è il noto avvocato Raffaele Tibaldi che, circondato da un gruppo di professionisti del capoluogo Sannita, vorrebbe ridare linfa alla sua città. È un moderato, ma quando si tratta di lanciare strali ne ha per tutti i gusti frecce avvelenate contro Mastella, De Girolamo, Viespoli e non solo. Non salva quasi nessuno e spiega il perché. Avvocato, Comunale a Benevento, so che lei scenderà in campo. Perché ha deciso di spendersi al servizio della città di Benevento? Io parto da un presupposto che all'interno di qualsiasi comunità uno deve cercare di rispettare un ruolo e ognuno deve fare qualche cosa. La politica è un servizio, non è l'occupazione fisica del potere, per quello che mi riguarda. E se la politica è un servizio devi rendere un servizio alla gente. Se in questo momento rendere un servizio alla gente significa candidarsi per proporre qualcosa di nuovo, io voglio rendere un servizio alla gente. Ecco perché ho deciso sostanzialmente di ricandidarmi per le prossime elezioni comunali a sindaco, cercando di guidare una lista civica, senza insegne di partito, senza predisposizioni verso destra, verso sinistra. Soltanto con un bel programma serio e soprattutto con le persone serie. Benevento di cosa ha bisogno? Benevento ha bisogno di tutto purtroppo. Benevento è caduta troppo in basso. Se lei mi potesse dare in sintesi dei punti, è chiaro che non pretendo da lei un quadro completo. Basterebbe un piccolissimo dato. Dieci anni fa Benevento stava nella classifica della qualità della vita, del sole 24 ore, all'85esimo posto. Oggi stiamo al 98esimo su 103 province. Basta questo, no? Non c'è bisogno di nient'altro. Benevento prima era definita un'isola felice, era definita una bella cittadina, era definita la città dei teatri, era definita la città delle opportunità. Tanto tempo fa arrivò l'università, anche quella era un'opportunità. Avevamo la sede dei carabinieri. Benevento era una bella cittadina. Dopo tanti anni di sciagurata amministrazione, me lo lasci dire, ma ho il dovere di dirlo perché sono stati degli sciagurati costoro, hanno pensato a fare tutto tranne che amministrare la nostra città, ci ritroviamo senza più niente. Pensi che, le do un altro dato, però facile, così non diamo fastidio agli spettatori, ai telespettatori. Pietrelcina, che dista 10 km da Benevento, 10 minuti di macchina, si riceve ogni anno perlomeno 700 mila persone. A dire poco 700 mila persone. Di queste 700 mila persone che vanno a Pietrelcina, nemmeno l'1% si ferma a Benevento. E non è che noi possiamo dire che Benevento è brutta. No, assolutamente. Benevento è bella. Diremmo una grande bugia. Io direi che è una bomboniera. E però noi sullo sfondo abbiamo quella catena montosa, quella piccola catena montosa, che si chiama La Bella Dormiente. E probabilmente gliel'abbiamo data noi beneventani il nome a quella catena montosa, perché è una città un po' sonnacchiosa. E io voglio svegliarla. Come la vuole svegliare? Voglio svegliarla proponendo qualcosa di completamente nuovo. Io sto costruendo, ho costruito una lista, rivolgendomi ad una fascia particolare di persone di Beneventani, dai 30 ai 50 anni. Persone che hanno fatto in questa città, che hanno costruito e che hanno dato a questa città. E si sono stancati di stare in una città che toglie piuttosto che dare. Persone che non hanno mai avuto esperienza di consiglio comunale. Persone per bene, persone capaci. Professionisti. Professionisti, commercianti, imprenditori, medici, persone del mondo. Società civile, insomma. La società civile, la società che viene tenuta sempre ai margini dalla politica, perché non viene compulsata, perché nessuno le si rivolge. Io ho trovato soltanto adesioni entusiastiche. Anzi, le devo dire la verità che ho qualche difficoltà, perché ce ne sono troppi. Però riusciremo sicuramente a far quadrare il cerchio e la mia ambizione è quella di proporre alla città un gruppo dirigente diverso, rinnovato, alternativo all'attuale gruppo dirigente, che seppur giovane d'età, perché sono quarantenni, comunque è innegabile che abbiano fallito. Allora una proposta nuova, una proposta nuova, certo non siamo una corazzata, non abbiamo sigle di partito, non abbiamo tessere, non abbiamo niente, ma abbiamo alle nostre spalle una piccola storia, una grande tradizione e soprattutto tanta buona volontà. Lei è una persona molto stimata, un avvocato molto noto a Benelento, ma non solo. Allora qualcuno direbbe, ma perché proprio lui vuole scendere in campo? Lei l'ha detto, però rafforziamolo questo concetto. Ma per la verità anche tanti amici mi hanno detto, ma Raffaele, ma te chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Ma non è così. Innanzitutto io cerco di salvaguardare un principio, il principio è quello che bisogna lavorare per la propria terra, bisogna lavorare per il futuro. Ognuno di noi deve fare qualche cosa. Nascondersi dietro il dito della critica facile, che ci vuole, lo sappiamo fare tutti quanti, anche io posso scendere sui marciapiedi della città a puntare il dito e dire ah non sapete fare niente. Io mi misuro. Quindi lei è un coraggioso? No, non sono un coraggioso, sono soltanto un uomo che si rende conto dei propri limiti, ma che si rende conto anche delle piccole virtù che uno può avere. Sono consapevole. Cerco di trovare, cercherò, ma riuscirò a trovare persone altrettanto consapevoli come me. Benevento è una città indignitosa, è una città onesta ed è anche una città coraggiosa. Bisogna tirare fuori queste virtù dalla città e trasferirli ai cittadini. Ma i beneventani io sono sicuro che mi sapranno rispondere da questo punto di vista. Lei è un moderato, è una persona che già si è spesa per questa città e ha avuto anche molto consenso. Qual è il messaggio che lei vuole rivolgere ai suoi concittadini? Di rimboccarsi le maniche. Ci dobbiamo rimboccare tutti le maniche, non solo devono rimboccare soltanto i cittadini. Anch'io, da questa scrivania, vi devo rimboccare le maniche, perché Benevento ha bisogno dell'energia e dell'entusiasmo di tutti. Benevento è una città che si sta invecchiando. Se lei si fa un giro per il corso troverà pochi ragazzi. I nostri figli sono andati tutti via. E io devo combattere affinché i nostri figli tornino, non restino fuori. Perché non è giusto? Perché la mia generazione da questa città, da Benevento, ha ottenuto tutto. Io mi ci sono laureato, ho studiato, mi ci sono sposato, ho lavorato, ho costruito qualche cosa. Un ritorno nel camoluogo. Le relazioni successive, la mia, tutto questo non l'hanno potuto avere. Perché è stata male amministrata? No, no. E bisogna cambiare il registro. Bisogna rimboccarci tutte quante le maniche. Insomma, un appello ai 300 spartani di una volta, insomma ai garibaldini. Cerchiamo di renderci conto che il nostro ruolo è importante in una città piccola come questa. e con poche cose si può svoltare completamente. Se lei dovesse riuscire a conquistare Palazzo Musti, la prima cosa che farebbe? Cercherei di rinvigorire il corso garibaldi. Porterei immediatamente il comune, rifarei tornare, traslocherei dal comune da Palazzo Davi Annunziata, lo riporterai a Palazzo Paolo V. Insomma, è da dove cominciamo, me lo dice lei. Io faccio una battuta alle persone con le quali sto parlando. Il programma è importante, ma basterebbe una battuta. Facciamo il contrario di quello che hanno fatto questi qua per dieci anni. Sicuramente andiamo meglio. Che cosa hanno fatto gli amministratori di sbagliato, gli amministratori attuali? Ma vede, il ragionamento secondo me è un pochettino più complesso. Negli ultimi anni, nell'ultimo ventennio, chi ha fatto la politica nelle piccole città non ha amministrato le città, ha pensato a costruire la propria carriera politica e noi a Benevento abbiamo qualche esempio. Fausto Pepe avrebbe fatto, secondo lei, la stessa cosa? Hanno soltanto lavorato per la propria candidatura, alle regionali, alle politiche, dimenticando il territorio, dimenticando di amministrare la città. Il 15 d'ottobre c'è stata l'alluvione a Benevento e tutti sappiamo quello che è accaduto. Il 13 di marzo c'è stata una precipitazione notevolissima a Benevento. Abbiamo corso gli stessi pericoli, perché nell'arco di sei mesi nessuno si è peritato di andare sulle sponde del fiume e di andare a pulire le sponde del fiume. Lei ha citato poco fa il dramma che ha vissuto questa città, che ha vissuto questa gente, il dramma di una tragedia, di una terra violentata. Che cosa ricorda di quell'ottobre che è proprio dietro l'angolo? Una sorpresa, per me è stata una sorpresa, io tutto potevo immaginare fuori che accadesse una cosa simile, per la verità. Immagino che abbia provato un sentimento molto forte nel vedere la sua città poi violentata alla furia della natura. Ma più che un sentimento personale, io sono stato partecipe dei sentimenti delle persone che sono state colpite, perché poi per il lavoro che faccio, un pochettino la professione, un pochettino anche la politica, io sono il terminale delle istanze di tante persone. Ci sono ragazzi, persone grandi, adulte, giovani che hanno perso tutto, ci sono attività commerciali che sono completamente distrutte, sono chiuse perché non hanno più la possibilità di riprendersi. E a questo proposito, io mi domando, ma è possibile che noi beneventani non ci rendiamo conto che abbiamo il Presidente del Consiglio, abbiamo il Governatore della Regione Campani, abbiamo il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, abbiamo un rappresentante del Governo in città, e abbiamo il Sindaco tutti di centrosinistra, tutti del PD. Comandano loro la famosa filiera istituzionale, in sei mesi non è arrivata una lira qui, non hanno dato una risposta a niente, forse era meglio non avere nessuno. Allora probabilmente la filiera istituzionale non serve più a niente, servono gli uomini. Questo è il messaggio che voglio lanciare, ci vogliono gli uomini capaci, onesti, che hanno le proprie competenze professionali, hanno anche un po' di prestigio, e un po' di tradizione, e possano rimboccarsi le maniche, ripeto, e tirare su questa città. Un messaggio flash agli amministratori di oggi, ossia Fausto Pepe e Raffaele Del Vecchio, che sarà il suo competitor. Insomma, sono stati insieme, hanno amministrato insieme per dieci anni questa città. Gli errori e le colpe di Fausto Pepe, che sono innegabili perché la città è morta, si rimbalzano automaticamente sulla figura di Raffaele Del Vecchio, che è una brava persona, un bravo ragazzo, per l'amore di Dio, però ha bisogno di un po' di tempo, secondo me Benevento meriterebbe ben altro, anche perché comunque hanno la difficoltà, Del Vecchio avrà la difficoltà di smarcarsi dalla precedente amministrazione, per poter proporre cose nuove. Una cosa è certa, è stato assessore alla cultura per dieci anni, una cosa buona, tenevamo una rassegna di città-spettacoli in città, ci ritroviamo con una rassegna di città-spettacolo che non conosce più nessuno perché nessuno ci va, Benevento è una delle pochissime città d'Italia che all'interno del proprio territorio urbano non ha cinema, noi per vedere un film, tutti quanti nel Benevento Italia, la sera dobbiamo prendere la macchina, o andiamo verso San Giorgio del Sanno, o andiamo verso Torrecuso. E cosa è successo? Che hanno chiuso, hanno chiuso, non c'è più niente in questa città, ma davvero non c'è più niente, ci sta, io sono stato partecipato di tante iniziative in questa città perché insomma ci sto in mezzo da tanto tempo pur non avendo mai messo una firma perché io sono sempre stato all'opposizione, ho avuto la rara capacità pur essendo un vecchio socialista di stare sempre all'opposizione, quindi non sono governativo assolutamente, però i fatti li conosco. Noi eravamo orgogliosi di quelle donazioni che ha fatto Mimmo Palladino alla città dell'Orthus Conclusus, la prego dottoressa Lombardo, vada a vedere che cos'è l'Orthus Conclusus, adesso che scende da me. innanzitutto lo trova chiuso e poi lo trova decrepito, è abbandonato a se stesso. Di fronte all'Orthus Conclusus c'è il teatro comunale, è chiuso, hanno staccato la corrente, cioè non è che è chiuso, è staccata la corrente per morosità, siamo all'assurdo. Il teatro romano, che è una cosa bellissima, abbiamo vestigie antiche in questa città che veramente fanno invidia a tutti, è inaccessibile. Le chiavi le detiene, c'è un solo mazzo di chiavi che lo detiene la soprintendenza di Caserta. Se qualcuno si permette di telefonare alla soprintendenza di Caserta per avere le chiavi, arrivano una sfilza di male parole, perché non so quanti debiti abbiamo noi comuni nei confronti della soprintendenza per opere non fatte, eccetera, eccetera. Allora c'è proprio una mancanza di governo, di amministrazione e non credo che né Fausto Pepe né Raffaele Del Vecchio possano nascondersi di fonte a dati obiettivi. Io sono convinto che la candidatura di Raffaele Del Vecchio è una buona candidatura perché è una brava persona, ma non avrà sicuramente un esito positivo. Un messaggio all'ex sottosegretario al welfare, Pasquale Viespoli. Viespoli è stata una promessa mancata in questa città. Perché dice questo? Perché 20 anni fa la città nel 1993 gli diede, io ero ovviamente all'opposizione anche in quel caso, gli diede ragione, lo fece stravincere e sulle ali dell'entusiasmo divenne addirittura rappresentante del governo. Come rappresentante del welfare sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, io non ricordo, se non chiacchiere e promesse, che sia stata istituita una industria a Benevento, ovvero nel circondario. Se le cose, se gli uomini devono essere valutati per quello che hanno fatto, non credo che il voto possa essere molto elevato. Messaggio a Mastella. Mastella è un monumento a cavallo in questa provincia, sia ben chiaro. È stato occupatissimo in mille cose, ha fatto il ministro, ha fatto il presidente, ha fatto più volte il ministro, ha fatto il capo di partito, ha fatto l'uomo di governo, ha fatto tante cose, ha fatto anche il candidato a sindaco di Napoli, ha candidato la moglie, ha costruito, ha distrutto, e adesso non so per quale capriccio ha deciso che vuole correre come sindaco di Benevento, come candidato sindaco di Benevento. Io ne sono contento, perché vuol dire elevare in quanto meno il dialogo, il dibattito, sono convinto che prenderà un voto meno di me. Nunzia di Girolamo? Qualcuno cattivo potrebbe dire non pervenuta. La vediamo per televisione, è un ectoplasma, è un fantasma, ma è qualcuno che sta lì che rappresenta istanze nazionali, ma insomma non è rapportabile al territorio, a Benevento abbiamo ben altri problemi, insomma, si è ben chiaro. Quindi poco radicata sul territorio? Sì, sì, poco radicata è un eufemismo, insomma. Ma c'è qualcuno che salva? Umberto del Basso De Caro sta facendo qualcosa? Umberto del Basso De Caro sta facendo il sottosegretario, però ha bisogno di tempo per lavorare, non so che risultati riuscirà a portare, se lo dobbiamo valutare per quello che ha fatto fino adesso, le rappresentavo prima che in sei mesi non è successo niente per quanto riguarda i danni dell'alluvione. Dovrebbe lavorare avendo deleghe molto particolari al riammaiamento della città nei confronti degli altri territori, segnatamente, per parlare in modo più facile, dovrebbe procedere alla riasfaltatura della Telesecaianello, che oramai è diventato un dramma a passare quella città, la riammagliatura dei vari territori per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda la ferrovia, eccetera, tutte cose di sua competenza e vediamo un pochettino se riuscirà a farle. Io lo conosco bene, ci mancherebbe altro. È una persona valida e anche molto caparbia. Ho la sensazione che però non abbia attorno a sé personale politico all'altezza della situazione. Benevento e il futuro? Il futuro di Benevento sono i beneventani, sono quelle persone che hanno capito che bisogna cambiare verso. Mi rubo una parola di Renzi, tanto. Qua tutti rubano, sinceramente parlando. Che uno sottrae un termine non cambia assolutamente niente. La città deve cambiare indirizzo, ma sono i beneventani che devono capire. È venuto il tempo di cambiare. Io per questo voglio combattere, perché c'è troppa confusione. Allora vale la pena lottare. Vale la pena lottare per affermare i propri principi, per affermare le proprie idee, per lavorare nell'interesse delle persone. Chiaro che il gruppo che io rappresento farà un sacrificio nell'ipotesi che noi dovessimo vincere le elezioni e credo che non sia un'ipotesi tanto peregrina e sia ben chiaro. Altrimenti non combatterei, non sono abituato a perdere nella mia vita. Noi rinunceremo all'indennità di carica, questo è evidente. E così doveremo un fondo. Io direi addirittura a una fondazione per... Così sono soldi che sono posizionati lì e non si possono... Che cosa servirebbero questi soldi che lei vuole accantonare, insomma, vuole rinunciare? Avrei l'idea di utilizzarli per le famiglie disagiate, per... Dicevano i vecchi socialisti, per i poveri e i derelitti diseredati. Non esistono più queste persone, però esistono tante sacche di malessere, di disagio nella mia città che sono addirittura poco credibili. Ci sono persone che veramente hanno la difficoltà di andare avanti giorno per giorno e io vorrei dare un segno da questo punto di vista. Abbiamo fatto un calcolo... Tendere la mano a chi ha bisogno. Abbiamo fatto un calcolo che di indemnità di cariche e tutto il resto il Comune spende nell'arco di 5 anni circa 7 milioni di euro. 5 anni, una consigliatura. E sono tanti soldi. No, si possono fare tante cose. E allora, poiché la politica è un servizio, poiché la politica si fa per passione, poiché fare il sindaco di Benevento non è che comporta spese, perché se io dovessi fare il sindaco andrei a pridio al Comune di Benevento sinceramente parlando allora possiamo rinunciare. Possiamo rinunciare e rendere un servizio alla nostra città. E questo, come dire, è un piccolo sacrificio che si fa volentieri ma lo si fa nell'interesse della città. Farlo nell'interesse della città significa farlo nell'interesse dei Beneventani. Farlo nell'interesse dei Beneventani significa farlo nell'interesse dei nostri figli. Questo è il mio progetto. Avvocato Tibaldi, qual è l'auspicio di un Beneventano come lei per la sua città e per la sua comunità? Di invertire questo trend molto negativo della città. So che è difficile. Benevento ha un grande limite. Vivono poche persone in città. Noi siamo 60 mila abitanti, tutta la provincia sono 300 mila abitanti. Al Vomero, nel quartiere Vomero mi sembra che siano 700 mila persone. Il vero limite nostro è questo. Noi dobbiamo rendere questa città attraente e attrattiva. Il momento di maggiore splendore di Benevento negli ultimi 30 anni è stato quando ha coinciso con l'apertura della scuola allievi carabinieri. Perché venivano i ragazzi, gli ufficiali, c'era movimento in città, ogni tre mesi si faceva il giuramento, eccetera. E quello è stato il momento più favoribile della città, nonostante che fosse contestuale al periodo del terremoto. E quindi si viveva il dramma delle abitazioni disabattute, eccetera, eccetera. Questo bisogna fare. Bisogna riportare persone in città. Abbiamo tanti luoghi abbandonati. Quindi una Benevento più popolosa. Sì, sì, dobbiamo portare gente a Benevento. È paradossale. Però il sabato e la domenica se qualcuno vuole uscire in città ha poco da fare. trova più cose da fare nei paesi limitrofi segnatamente San Giorgio del Sannio o Pietralcina o Montesarchio che non in città. Cosa assurda perché ai miei tempi si viveva in città, si stava qui, si faceva tutto. Dobbiamo riportare... Benevento è una bellissima città, è meravigliosa. Dobbiamo ridare fiducia alla gente, dobbiamo ridare entusiasmo. Le capacità avrebbe tutte... Le potenzialità, certo, ha tutte le potenzialità, ma manco le potenzialità. Non è rilanciata per poter avere più gente. Ma non è nemmeno difficile. Sia ben chiaro, non è difficile. Noi abbiamo tanti posti, basta rinvigorirli, non ci vuole molto, non ci vuole un po' di fantasia. Ecco perché io mi rivolgo a persone nuove, perché le persone nuove hanno, come dire, la capacità di idee nuove, portano idee nuove. Noi di quello abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno del solito programma che dice bisogna abbassare le tasse, bisogna fare... Il programma lo elaborerà in una stanza chiusa? No, il programma sta un po' in ritardo, perché poiché ho chiesto a tantissime persone un aiuto, poiché tutti quanti dicono sì, 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 però non ti preoccupare, eccetera, eccetera. Io non lo voglio fare da solo, io so bene di che cosa ha bisogno la città, però se devo coinvolgere le persone, io le devo coinvolgere anche in modo come dire coinvolgente, mi passi il termine, ovvero sia tutti devono partecipare a questa cosa. Siamo pronti, siamo pronti, vorrei fare un programma qualificato, piccolo, pochi punti, ma insomma che dia il senso della novità. La novità è che sganciati dai partiti un appello alle persone consapevoli di questa città, le persone dignitose, le persone coraggiosse, le persone oneste che possano, che sono in grado di dare un contributo a questa città e che vogliano fare. Perché i Beneventani dovrebbero votare l'Avvocato Tibaldi? Perché forse la nostra storia è un... è un... dà un po' di garanzia alle persone, forse perché siamo Beneventani da sempre, a differenza di qualcuno che viene da Cepadoni, eccetera, eccetera, forse perché abbiamo la consapevolezza delle nostre idee, forse perché insomma la storia ci dice, la cronaca ci dice che non siamo caduti mai in qualche tranello, in qualche trappola, insomma ce la siamo... che ci mettiamo la faccia, che forse abbiamo le mani pulite, siamo Beneventani, amiamo la nostra città e Tibaldi rappresenterà un gruppo, non rappresenterà se stesso, sia ben chiaro, Tibaldi ha la presunzione di costruire un nuovo gruppo per questa città. Avvocato, grazie per la sua ospitalità, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a tutti.